Brutta notizia per Axel Svindal, questo personaggio sportivo di nazionalità norvegese della Norvegia infatti ha comunicato a tutti di recente di aver fatto una scoperta tristissima, una scoperta veramente brutta avrebbe detto infatti ho scoperto purtroppo di avere un tumore ai testicoli, alle palle l'ex Campiovedici ha comunicato a tutti la notizia in questione, recandosi da un medico è stato poi trasferito all'ospedale dove hanno purtroppo confermato quello che era fino a quel momento un mero sospetto ossia un cancro alle palle, un cancro ai testicoli l'uomo ha annunciato questo, una situazione molto delicata, a 39 anni età si è ritrovato con le palle con una neoplasia, con un tumore, con un cancro queste scansioni sono arrivate molto rapidamente dopo la prima settimana la prangice era molto buona però ha scoperto di avere questo cancro ai testicoli andando proprio dal medico aveva qualcosa che non andava, sospettava che qualcosa non andava in lui ha fatto quindi una visita medica e purtroppo è arrivata la triste, la brutta, la negativa, la ostica la schifosa notizia, cancro alle palle, testicoli vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, speriamo che si possa riprendere quanto prima dal cancro alle palle, Kavar Axel, un saluto caro da te questo video non vuole vedere le parevesi di Axel ma solo informare eventuali persone ciao a tutti